Musica Benvenuti in questo video di Roblox, questo è il mio canale in questa modalità ci giochiamo e io sto giocando però sul match di mio padre dunque sarà un pochino difficile possiamo cominciare allora, per muoversi io utilizzo semplicemente le frecce perché mi sembra più semplice mentre ci sono anche gli altri tasti tipo IW, poi c'è S e altre lettere del genere per saltare space, dunque spazio e per cambiare telecamera da alto e basso utilizzo il mouse, così e così poi per fare credo altre cose ci vuole altre, va bene e io credo che per così per un attimino fare le cose giuste devo fare così e possiamo andare a fare la nostra primissima canzone ah giusto, questa modalità si chiama Friday Night Funkin' per chi non lo conosce se c'è anche il gioco reale dunque ora possiamo giocare e qui ci sono un botto di canzoni tipo Tricky facciamo Tricky, aspetta Tricky no no Tricky, io voglio Tricky no no ho sbagliato, sbagliato ragazzi ho sbagliato bisogna di mettere Tricky no no Tricky, Tricky io voglio Tricky aspetta un attimino non ci riesco, non ci riesco ora mettiamo Ace Lucasion che è una canzone che io amo tantissimo aspetta che torniamo qua la classifica ci mettiamo pure la stellina perché questa canzone mi piace tantissimo e vediamo se ci riusciamo allora, c'ho un tizio che mi sta dicendo che è fake noob sì, vabbè, non importa iniziamo allora non c'è il volume non c'è volume non c'è volume non c'è volume non c'è volume, ragazzi non c'è volume aspetta scusa eh, io non riesco a fare questa ci sono tantissimi tosti che io non riesco proprio a fare oi 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 contenute, contenute ci saranno già 100 l'uno l'uno intorno ci sono 15.000 sì, vabbè e se ma ingegniamo 100.000 ci arriviamo su matta da 100.000 è molto hard ai 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 devo riuscirci devo riuscirci devo riuscirci devo riuscirci ahhh 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 dai ti prego ti prego ti prego ti prego almeno arriva il 40.000 che ce l'ha fatta dai dove c'è la parte ahhh 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 dai forza 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 ragazzi creandate in me forza forse la parte la parte easy la parte easy facciamo ok perfetto perfetto è molto difficile anche questa ok 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 già si può anche concentrare ok oh no oh no oh no oh no questa è la trick io odio fare trick e no no qui c'è ce l'ho fatta ce l'ho fatta fare la parte hard oh la la mamma mia mamma mia mamma mia molto difficile ragazzi se giocate da fatti questa canzone questa canzone me la proibisco cioè è troppo difficile ce l'ho vincita con nessuno ah sono i 5.000 perfetto ok abbiamo pure superato il massimo da 125.000 a like per un prossimo video di fredd night fighting ahi 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 e poi inviterò anche un mio amico bellissimo di nome andrea ahi ahi mi piace tantissimo un po' ritardo eh sì lo so alcune volte ok va bene 63.000 ce la possiamo fare eeeh si prima canzone fatta e poi siamo stati piuttosto bravi per dire meglio siamo stati bravi vediamo gli altri che sono questa è la no no vabbè questo non è possibile questo non è possibile questo non è possibile ma questo sto facendo celeber perfetto vediamo questi che fanno questo è da solo e sempre trick che sono impazziti per trick ok questo credo abbiamo finito sì questo è il video vediamo ok hanno quasi finito hanno praticamente finito allora vediamo sta vincendo sta vincendo lui però lo può pareggiare per me adesso allora vediamo allora credo che vincerà questo però povera la posizione no no ha vinto lui mannaggia ok va bene andiamo a fare un'altra canzoncina perfetto ok ok eeeh perfetto andiamo e aspettiamo che passano 10 secondi 5 4 3 2 1 play allora vediamo cosa facciamo improbable oltre non so come dirlo allora mi chiamiamo inizi perché io sono un nabo come sapete ok vediamo la classica allora vediamo sono pronto ok è hard è hard è hard ok me la sto tomando bene devo tenermi pronto devo tenermi pronto potete come sarà come sapete io non so se voi lo sapete veramente ma io clicca caso cosa ho fatto cosa ho fatto oh lala è bellissimo il relo ve lo devo fare un giro se io ce la faccio vi dovete dare un premio no lo volevo dire se io la completo con 40.000 vi dovete dare un premio però manca poco allora allora dai ah 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 aspetta pure ha fatto quella parte incredibile non posso perdere ora contro un clown assassino schifoso è entrato io al fanno il clown dunque dunque è come se mi sto giudicando è come valentin 40.000 un premio un premio ragazzi un premio ho finito con 40.000 cioè incredibile ho fatto 20.000 in due secondi no 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 mai che carino che bello se vi è piaciuto questo video lasciate un bel like ed iscrivetevi al canale io sono Luca ciao ciao no 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 no